C'è il direttore, attenzione ovviamente in questo momento la BAM sta valutando, il signor Gubeli sta rivedendo tutto, in maniera potete intervenire, vedete come dice il consegno del bar, adesso dice non c'è il rigore, scelta di una scelta, scelta di una scelta, scelta di una scelta, probabilmente la scelta di una scelta, questa è la scelta di una scelta C'è il rigore, scelta di una scelta, scelta di una scelta, scelta di una scelta C'è il rigore, scelta di una scelta, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.